nel 1054 dopo un lunghissimo periodo di incomprensioni reciproche la chiesa cattolica di roma e la chiesa ortodossa di bisanzio si separarono definitivamente questo evento è passato alla storia col nome di scisma d'oriente scisma significa appunto divisione separazione e sta ad indicare la separazione della chiesa orientale quella ortodossa dalla chiesa di roma quella cattolica sempre nello stesso periodo ci fu un'altra grave crisi anch'essa iniziata molto tempo prima che riguardava però l'impero arabo gli arabi erano vero tutti musulmani ma erano divisi in due fazioni c'erano i sunniti e gli sciiti allora gli sciiti erano i sostenitori di ali e dei suoi discendenti ali era il genero di maometto e si riteneva essere il degno successore del profeta quando questo morì i sunniti invece sostenevano che solo i discendenti diretti di maometto e della sua casata potessero succedergli come finì finì a dire il vero o mai tanto che ancora oggi queste due fazioni lottano tra di loro e in modo violento all'epoca queste lotte avevano indebolito moltissimo l'impero arabo e come spesso accade in questi casi ne approfittarono i turchi seggiucidi che sconfissero gli arabi e conquistarono i loro territori durante queste guerre uno dei territori finiti nelle mani dei turchi fu la palestina dove c'era gerusalemme il sultano perseguitò uccise caccio via da gerusalemme tutti i cristiani e gli ebrei non devi dimenticare che gerusalemme è la città santa e oltretutto a gerusalemme c'era il santo sepolcro una delle mete più importanti dei pellegrinaggi dell'epoca in realtà dopo la morte del sultano i cristiani e gli ebrei erano rientrati a gerusalemme e la vita della città era ripresa come prima si continuavano a svolgere le attività economiche e continuavano ad arrivare da tutta Europa i pellegrini che si recavano al santo sepolcro l'Europa però è lontana e le notizie giungevano molto lentamente per cui in realtà in Europa arrivavano ancora le voci delle violenze contro i cristiani a gerusalemme bene questa è la situazione storica adesso devi recuperare un po di notizie che già conosci e devi metterle tutte insieme prima di tutto le violenze dei cavalieri ti ricordi che uno dei problemi che proprio la chiesa aveva cercato di affrontare era l'estrema violenza dei cavalieri poi c'era l'abbiamo appena detto la questione dello scisma d'oriente era stato un brutto colpo questo avvenimento per la chiesa cattolica la quale cercava un modo per riacquistare prestigio e poi c'era la questione del santo sepolcro che adesso era nelle mani dei musulmani da qui venne l'idea di fare una guerra una guerra in nome della croce proprio per liberare il santo sepolcro e per dare come dire uno sfogo una direzione positiva alla voglia di combattere dei cavalieri nel 1095 il papa urbano secondo durante il concilio di clermont annunciò questo progetto propose questo progetto esortò i cavalieri a smettere di uccidersi tra di loro a cucirsi una croce sui mantelli a prendere esempio dai cavalieri spagnoli che si erano uniti e avevano sconfitto i musulmani cacciandoli dalla penisola iberica inoltre il papa spiegò che chi avesse partecipato a questa impresa avrebbe ricevuto l'indulgenza plenaria cioè in pratica la cancellazione dei peccati e quindi delle punizioni che l'anima avrebbe dovuto scontare dopo la morte questo progetto entusiasmò i cavalieri e i nobili dell'europa i quali risposero con entusiasmo a questo appello del papa e cominciarono a organizzarsi facciamo una piccola parentesi però e cerchiamo di capire bene chi fossero i crociati allora intanto la parola crociato sia per indicare il soldato sia crociate per indicare le guerre che da adesso in poi si combatteranno in oriente è una parola che all'epoca non veniva usata i crociati non si chiamavano crociati ma si definivano segnati con la croce oppure soldati della croce proprio perché sul sul loro abito sui loro mantelli sulle loro armature segnavano questa questa croce che stava a simboleggiare il motivo principale del loro andare a gerusalemme il motivo principale era quello di liberare la città e il santo sepolcro dalle mani degli infedeli molto probabilmente la parola crociata venne cominciata a usare addirittura dal 1700 quindi questi soldati della croce partono per andare a combattere ma chi sono questi soldati e soprattutto perché ci vanno allora le motivazioni sono tante molti lasciavano la loro patria e si dirigevano verso la terra santa perché erano sinceramente spinti da un desiderio religioso cioè da una fede una fede che non aveva nessun dubbio nessuna incertezza per questi uomini intervenire in difesa dei luoghi sacri era un dovere morale era una cosa giustissima e che ogni uomo credente avrebbe dovuto fare ovviamente c'erano anche delle altre motivazioni ad esempio i più poveri i figli cadetti delle famiglie dei nobili quelli che venivano cacciati dai castelli e che non avevano nulla andavano in queste terre orientali anche nella speranza di arricchirsi di fare bottino di conquistare delle terre altri erano spinti dal desiderio di avventura all'epoca si leggevano si conoscevano i romanzi del ciclo dei cavalieri della tavola rotonda re artù l'ancillotto e quindi molti di questi erano proprio animati da questo desiderio di lasciare tutto e partire per un'avventura ora motivazioni così diverse lo vedremo si fa fatica a tenerle insieme soprattutto in un'epoca in cui ti ricorderai non esistevano degli eserciti veri e propri ma tutte le volte che si doveva partire per una guerra i capi radunavano dei cavalieri e tutti insieme andavano verso l'obiettivo ora fino a che tutto filava liscio andava tutto bene quando poi c'erano delle difficoltà è chiaro che queste differenze che queste diversità venivano alla luce e spesso creavano grossi problemi per primi partiranno un gruppo numeroso erano circa 20.000 un gruppo di persone che comprendeva gente comune poveracci sbandati tant'è vero che venne soprannominata la crociata dei pezzenti la crociata dei poveri erano persone guidate da eretici spesso fanatici il più famoso fu pietro l'eremita e questi uomini si misero in marcia radunati dal cuore dell'europa senza nessuna preparazione quasi senza armi senza viveri convinti fermamente convinti che una volta raggiunta e conquistata Gerusalemme sarebbe arrivata la fine del mondo quindi occorreva liberare la città prima del giudizio universale attraversarono le campagne dell'europa centrale procurandosi ciò di cui avevano bisogno con razzie e spesso violenze violenze anche nei confronti delle comunità ebraiche che ormai cominciavano ad essere odiate in tutta l'europa finalmente arrivarono in asia minore ma stanchi distrutti decimati e assolutamente impreparati vennero massacrati totalmente dall'esercito turco la prima vera crociata è quella del 1096 al comando di un condottiero tal Goffredo di Buglione Goffredo guiderà i suoi uomini attraverso lo stretto del bosforo quindi attraversando tutta l'europa questo è lo stretto del bosforo arriverà in asia minore qui si fermerà circa due anni e poi riprenderà il viaggio verso Gerusalemme a Gerusalemme in realtà non si aspettavano un attacco oggi diremmo che vennero prese in contropiede e nel 1099 dopo solo un mese di assedio la città venne conquistata dai crociati a questo punto i cristiani organizzano il territorio conquistato in quattro regni che vennero chiamati regni cristiani o regni latini che organizzarono come erano abituati ad organizzare le cose in Europa cioè proprio come dei regni feudali con i castelli con i feudi con i cavalieri questi regni durarono più o meno insomma per un secolo anche perché il territorio non era quello europeo le risorse non erano quelle europee e questi principi non avevano calcolato che non avrebbero potuto riprodurre fedelmente ciò che accadeva in Europa in queste terre orientali dopo circa un secolo questi territori vennero tutti riconquistati da un sultano turco chiamato saladino che riconquistò anche gerusalemme e appunto tutto il territorio i papi in Europa non si arresero e organizzarono altre sette crociate con quale risultato ma l'unico risultato certo fu che tra i due eserciti quello cristiano e quello musulmano ci fu un milione di morti